Musica Pesantis, oggi denunciate un fatto grave che riguarda le acque del Gran Sasso con la presenza di solventi e che cosa è accaduto? Lo scopriamo intanto dopo 4 mesi solo grazie a un comunicato stampa scarno della regione Abruzzo che dichiarava ieri l'emergenza idrica nel Terramano. 100 litri di acqua al secondo non possono essere più mandati nei rubinetti dei Terramani ma devono essere mandati a scarico nell'ambiente, nei fiumi, perché il 2 settembre c'è stata questa contaminazione. Ora pare che il 2 settembre immediatamente sia stata mandata l'acqua a scarico quindi nei rubinetti pare che non sia andato a finire nulla però lo sappiamo da dichiarazioni sulla stampa non da documenti ufficiali e c'è stata una contaminazione delle acque del Gran Sasso. Bene, questo è un aspetto molto grave intanto che si viene a sapere dopo 4 mesi mentre ci sono degli obblighi di legge per tutti gli enti pubblici di avvisare i cittadini anche quando non c'è un pericolo diretto per la salute ma che c'è stato un problema. Il fatto che non si possa più capitare una quantità tale di acqua dal Gran Sasso ma bisogna andare a reperire col potabilizzatore già questo è una questione da chiarire, da dire ai cittadini anche perché paghiamo le bollette. Ora l'aspetto ancora più grave è che sono passati 4 mesi il sistema laboratori del Gran Sasso, gallerie autostradali e anche quello che può avvenire a Campo Imperatore è un sistema complesso, carsico dove la contaminazione potrebbe avvenire da uno o più punti. Allora dobbiamo capire intanto se gli enti hanno avvisato immediatamente il Parco Nazionale, la Procura della Repubblica, il Corpo Forestale dello Stato e per accertare la fonte di questa contaminazione se è un aspetto singolare oppure che addirittura potrebbe riguardare una contaminazione più ampia. Intanto registriamo con piacere che quanto noi abbiamo iniziato a fare nel 2012 ovvero indicare la realizzazione dei nuovi presidi ospedali di Lanciano, Basto, Avezzano, le ristrutturazioni di Sulmona e di Popoli, il nuovo 118 dell'Aquila e la realizzazione ospedale di Giulianova. Questo lavoro ha durato tre anni, oggi trova una conferma perché il Ministero ha risposto positivamente alla programmazione fatta allora dalla giunta di centrodestra e si è detto disponibile la stanza del 40% delle somme per realizzare questi nuovi ospedali. Cosa cambia rispetto a noi? Noi dicevamo a un privato guarda realizzaci il nuovo ospedale in questo modo moderno, questa è la parte di finanziamento pubblica, prenditi gli immobili vecchi e costruisci tu un progetto su quegli immobili vecchi. La nuova giunta, quella d'Alfonso, dice eccoti soldi pubblici, gli immobili vecchi ci restano a noi sul groppone, quindi nelle varie città, Lanciano, Avezzano, Vasto e Giulianova e io quello che ti manca te lo darò per il tramite. O ti faccio gestire i servizi ospedalieri o ti pago un canone. Insomma, beata a chi lo vince questa gara perché prenderà soldi pubblici da una parte e soldi pubblici dall'altra. Forse guadagneremo qualche mese in più nelle realizzazioni ma certamente faremo spendere molto ai cittadini abruzzesi per realizzare questi ospedali o meglio non potremo avere manovre riduttive della pressione fiscale. Ultimo brillante appuntamento del 2016 per una domenica fuori porta, la rassegna gastronomica itinerante organizzata da Marco Signori e Alessia Di Giovacchino in collaborazione con Mamma Rossa e Avezzano. Sarà proprio l'Osteria Vineria di Franco e Daniela Franciosi a ospitare il consueto appuntamento natalizio con le bollicine, domenica prossima 18 dicembre alle ore 20, l'unico che come la tradizione non prevede un percorso itinerante ma propone un viaggio sul posto. La domenica è in bollicina edilizia della sorprendente Mamma Rossa, una serata in cui i sapori, gli odori e le esperienze vissute in due coinvolgenti stagioni della rassegna si fondano e trovano spazio nei piatti sapientemente raccontati dallo chef e dai produttori presenti. I fuori portisti saranno infatti accolti da Franco e Daniela Franciosi ma l'intera serata sarà accompagnata dalla narrazione degli special guest Valentina Di Camillo della Teneta e Fauri, Ioli Rabasco dell'omonima azienda agricola, Fabio Piccari della Cantina La Quercia, Gregorio Rotolo e Nunzio Marcelli cui nomi si legano indissolubilmente all'arte casiera e abruzzese, Fabio Spinosa Pingue e Marco Pingue dell'omonimo gruppo, Andrea Gargano e produttori del caseificio FD. L'occasione è ghiotta per assaporare un ricco menù a base dei loro prodotti, innaffiato da interessantissime spumentazioni abruzzesi. Il melù elaborato dagli chef franciosi prevede polentina, cacio e pepe, croccante di maiale, fondant e la carota e poi eteros bianco, eteros rose extra dri della quercia, bianco vivace e tigi colline pescaresi di Rabasco e spumante brutte della tenuta ai fauri. La partenza dall'Aquila è prevista alle ore 19.15 dal piazzale antistatte, lo stadio di Acqua Santa. La partenza dall'Aquila è la partenza dall'Aquila.